Ma c'è da quello? Eh! Tra la mia sola qualità! Allora, io ti dico! Chi ha sempre fatto unesco? Allora io mi sono sensato! Quanti rigore c'era? Eh va bene! Ah, non c'è quanto sei onesco. Ma dai, soprattutto le regole c'era! Eh va bene, dai! Poi, io ci puoi capire da tutti, quindi anche per il caso! Eh, si va bene! Però ti sento rigore, mi ha scusso il giocatore, affatti il 9, il 10, poi il 9, il 9 per colpa di quel coglione che ha fatto il pagliato, tipo... Scusa, c'è? Mi fanno male!